Bellagani, andiamo a commentare subito questa partita perché lì in difesa oggi tante colpe ci sono, soprattutto su Lipari sembrava un fenomeno in area dei rigori, in occasione del primo gol, l'assist a Melchiorri e poi quando è raddoppiato. Sì, è una cosa incommentabile perché siamo molli e in settimana lavoriamo bene, quindi non riusciamo a trovare motivo. Il gruppo è unito, arriviamo tutti nella stessa direzione, andiamo forte ma non basta, è un gruppo forte, che ha potenziale, dobbiamo crederci e svoltare perché così non riusciamo più, mancano tante partite prima di arrivare ai playoff e dobbiamo arrivarci carichi a mille perché è una squadra che ha talento, ha potenziale e dobbiamo dimostrarlo. Anche sul terzo gol, credo dopo la bella parata di Plizzari, Ferrante non poteva raccogliere così quel pallone. Sì, siamo passivi, molli, non va bene, siamo una squadra che deve ambire ad altri risultati in tutti i campi contro ogni squadra contro cui giochiamo. Dopo analizzare gli episodi è facile ma siamo stati molli tutta la partita, un po' di lotta c'è stata, però non va bene. Pure Buccaro ha detto che l'atteggiamento era giusto oggi rispetto a Sassari. Sì, abbiamo lottato di più, abbiamo provato ad andare avanti ma prendiamo gol stupidi, non per incolpare qualcuno, anzi in primis io, però dobbiamo essere più cattivi perché ogni palla è fondamentale sia per fare gol che per prenderlo, dobbiamo stare attenti sempre ogni secondo dei 95 minuti.